Bentornati su MyFootballGersey. L'avete sicuramente riconosciuta? Questa è la versione player della seconda maglia del City per la stagione in corso, la maglia di De Bruyne. La seconda maglia di De Bruyne Maglia molto bella, l'avevo già vista in versione fan, trovate qui in alto la recensione, l'ho ripresa perché ovviamente questa è una maglia che va presa anche in versione player per quel che sono i miei gusti. Il costo, lo vedete qui sopra, assolutamente accattivante, ma decidete voi cosa fare. Se volete maggiori dettagli trovate tutti i riferimenti qua sotto in descrizione. Andate a vedere perché per i nuovi iscritti c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi diventa ancora più conveniente. Ora vi lascio la parte finale, prima però iscrivetevi al canale, spingete questo pulsante, non vi costa nulla, ma potrete vedere recensioni come queste tutti i giorni. Per oggi è tutto, alla prossima!